Inizia oggi Oliva Gando, anche questa edizione è un'edizione molto importante e significativa perché riusciamo a collegare da una parte un'esperienza tecnica sull'olivo, sull'olio e vini anche per valorizzare la collaborazione con i Cati che è un frantoio sul nostro territorio, un frantoio molto importante e significativo. Dall'altra parte la Proloco organizza eventi di nuovo sulla dimostrazione, sui corsi di potatura, verrà organizzata anche una scena domani sera e poi ci saranno anche momenti di conoscenza, approfondimento e divertimento sul territorio con camminate, in questo caso quest'anno sarà montagna. Quindi si conferma quell'attività importante del Comune di Quiliano che in questi anni ha sviluppato, dove si insieme a degli altri, in questo caso è sull'olio e sulle olive, ma ricordo l'albicocca di Valleggia, ricordo la granaccia, ricordo i cavoli e quindi come un'attività molto importante e significativa per cui il nostro territorio ancora una volta dà un significato molto importante per lo sviluppo della propria microeconomia nel nostro Comune, ma credo anche nella nostra provincia. Grazie Grazie Grazie